E' morta in un hospice di Nottingham in Inghilterra, la piccola Indy. La mia vita è finita all'1.45 della notte, dice il padre Dan Gregory, l'ora esatta in cui il cuore della bimba di otto mesi, affetta da un grave disturbo mitocondriale giudicato incurabile, ha smesso di battere dopo la decisione dei giudici britannici di interrompere i trattamenti contro quella dei suoi genitori che la tenevano ancora in vita. Siamo arrabbiati, affranti e pieni di vergogna. Il servizio sanitario ai tribunali del Regno Unito non solo le hanno tolto la vita, dicono Claire e Dan, il papà e la mamma, ma anche la dignità di morire in pace a casa sua. Per i giudici inglesi, Indy avrebbe sofferto troppo per questo. Hanno stabilito che la piccola doveva trascorrere le ultime ore della sua breve vita in una struttura sanitaria. In Gran Bretagna funziona così. In questi casi drammatici sono i medici e i magistrati ad avere l'ultima parola non solo sulla vita o la morte, ma anche sul luogo in cui devono essere interrotte le terapie. Claire e Dan dunque hanno perso la loro breve ma intensa battaglia legale contro la magistratura britannica, che si è sempre opposta non solo al mantenimento in vita della piccola, ma anche al suo trasferimento all'ospedale Bambino Gesù di Roma, che si era offerto di assisterla fino al termine dei suoi giorni. Per sbloccare la situazione non è servito nemmeno il conferimento della cittadinanza italiana, deciso dal Consiglio dei Ministri il 6 novembre scorso. Abbiamo fatto tutto quello che potevamo, ma purtroppo non è bastato. Buon viaggio piccola India, scritto sui social la Premier Giorgia Meloni.